Cari colleghi, come sapete il 4 e il 5 giugno prossimo venturo ci saranno le elezioni riguardanti il rinnovo delle rappresentanze sindacali unitarie. Sono Patti Maurizio, sono in questa azienda da 32 anni, ho un'esperienza sindacale pluriennale, ci metto passione perché per fare questa attività di volontariato ci vuole passione, mi candido con la Fistel CISL, organizzazione sindacale che mette sempre al centro i lavoratori salvaguardando attraverso il confronto costruttivo con la controparte i posti di lavoro e i diritti dei lavoratori. Vi chiedo in funzione delle prossime elezioni di darmi fiducia. Prima di essere un dirigente sindacale sono un vostro collega. Insieme sono certo che costruiremo qualcosa di concreto per il futuro nostro e il bene di tutti.